Comincio da zero è il bando promosso nell'ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile per incrementare l'offerta di servizi educativi e di cura per la prima infanzia con particolare riferimento alla fascia 0-3 anni nei territori in cui si registra una maggiore necessità. Per attuare i programmi del fondo a giugno 2016 è nata l'impresa sociale con i bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla fondazione Conil Sud. Le iniziative mirano all'integrazione di tutti i servizi per la prima infanzia adottando un approccio multidimensionale, servizi educativi, sanitari, sociali, culturali, legali capaci di rispondere in modo flessibile e integrato ai diversi bisogni dei bambini e delle famiglie, ampliare l'offerta e superare la frammentazione nell'ottica di una presa in carico globale e di welfare comunitario. Per tali motivi è fortemente auspicata l'integrazione dei nuovi servizi educativi con i piani di zona anche nell'ottica di favorire la loro continuità. Il comune di Agropoli è tra gli enti cilentani che ha aderito al bando sostenendo il progetto della cooperativa sociale Castrom che vede coinvolti anche il piano di zona Salerno 8, l'ASL di Salerno, il comune di Torchiara e gli organismi del terzo settore attivi sul territorio. Il fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nasce da un'intesa tra le fondazioni di origine bancaria rappresentate da ACRI, il forum nazionale del terzo settore e il governo. Comincio da zero punta sui servizi educativi e la cura per la prima infanzia in un momento in cui la pandemia ha reso tutto più complicato, le cui iniziative dovranno inoltre prevedere azioni di sostegno e potenziamento della genitorialità, della maternità e della conciliazione famiglia.